Il grande giorno di macOS Ventura è finalmente arrivato. Da pochissimi minuti, Apple ha reso disponibile la nuova versione del sistema operativo pensato appositamente per i Mac e che continua sulla strada dell'evoluzione, iniziato prima da Big Sur e continuato poi da Monterey. Ci sono tante, tantissime novità da vedere, ma prima di proseguire, vi chiedo, come sempre, per favore di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale. Due gesti rapidi e velocissimi per voi, ma di estrema importanza per me. E ora andiamo a scoprire tutte le novità contenute in macOS Ventura. Oggi è decisamente un giorno importante per Apple e non solo per l'arrivo di macOS Ventura, ma bensì è arrivato anche, finalmente, iPadOS 16 e non solo. È stato rilasciato l'aggiornamento ad iOS 16.1. A tal proposito, vi invito ad andare a vedere un video che è arrivato negli stessi istanti di questo, in cui vi mostro proprio tutte le novità contenute in iOS 16.1. Per comodità ve lo lascio qui sopra in scheda, ma anche sotto in descrizione. Se avete un iPhone, non dovete assolutamente perdervelo. E ora torniamo a macOS Ventura, mostrandovi per iniziare la lista dei Mac compatibili. Ne sono scomparsi alcuni che erano supportati in macOS Monterey e quindi quest'anno l'anno iniziale di partenza per tutti i Mac sia quelli dotati di chipset Intel, ma anche e soprattutto quelli dotati di Apple Silicon, parte dal 2017. E comincio mostrandovi la prima cosa che vedrete quando installerete macOS Ventura, ovvero il nuovo sfondo di sistema in questo sgargiante colore giallo-arancio-azzurro e che a me è piaciuto fin da subito, ovviamente. Questo sfondo si può anche impostare in funzione dell'orario, quindi se scelgo Cambia sfondo, potrò dirgli di essere dinamico e quindi cambierà con l'orario della giornata oppure impostarlo sempre statico nella modalità scura che va ad accentuare un po' l'arancio togliendo un po' il giallo e quindi è fatto apposta per dare fastidio agli occhi in modo minore. Da qua mi collego anche al nuovo salvaschermo, al nuovo screensaver. Ce n'è uno tutto nuovo dedicato proprio a macOS Ventura. Vi faccio vedere rapidamente un'anteprima e vedete che richiama chiaramente quello che abbiamo già visto nello sfondo è veramente, secondo me, molto acceso, molto brillante, molto bello da vedere. Non so se ci avete fatto caso, le avete viste giusto qualche istante fa, ci sono le nuove impostazioni di sistema completamente ridisegnate da Apple. Inizialmente vi garantisco che farete un pochino di confusione, ma poi vi basterà entrare nell'ottica che se avete un iPhone o un iPad la struttura del menu sulla sinistra è praticamente identica e quindi dopo qualche giorno vi abituerete al suo utilizzo. Come vedete c'è un ridisegno totale, quindi si può passare da una funzione all'altra come il Wi-Fi, il Bluetooth. Ovviamente viene integrata la parte di rete che non è presente in iPad e in iOS. Ci sono le notifiche, il suono, l'aspetto che abbiamo visto giusto poco fa per lo sfondo. Insomma, c'è veramente tutto quello che serve per configurare al meglio il nostro Mac e questo è un cambiamento, secondo me, epocale perché fin dalle primissime versioni di macOS era rimasto lo stesso. Quest'anno arriva in una veste totalmente rinnovata. E vengo ora subito, immediatamente, a quella che ritengo la novità più importante di macOS Ventura ovvero Stage Manager. Stage Manager è una modalità che ci permetterà di fare ordine sulla nostra scrivania soprattutto se siamo abituati ad aprire tante app nello stesso istante. Per prima cosa, come si attiva Stage Manager? Mi muovo nel centro di controllo. Vedete che è comparso un nuovo pulsantino che si chiama proprio Stage Manager. Ci clicco e da questo momento è attivato. E cosa succede? Proviamo ad aprire un'app. Richiamo Safari. Vedete che Safari si è aperto nel classico modo. Posso anche ridimensionarlo. Ma adesso vado ad aprire un'altra app e provo con messaggi. Avete visto che, boom, messaggi ha spostato nella parte sinistra del display Safari andando a occupare la parte centrale del display, quindi facendo spazio. Ma se voglio tornare a Safari mi muovo appunto sulla sinistra, ci clicco e ritorno in mezzo Safari. La cosa è valida anche se vado ad aprire altre app. Proviamo ad esempio con Note. Vedete, Note è comparso e ha spostato Safari sulla sinistra che quindi si è andato ad aggiungere a messaggi. Da questo momento potrò switchare rapidamente fra queste tre app. Ma la cosa si fa molto molto interessante quando per esempio voglio utilizzare più app in uno stesso spazio di Stage Manager. E quindi come faccio? Allora innanzitutto provo a richiamare un'altra app e richiamo l'App Store che chiaramente sposta sulla sinistra ancora una volta le note. Ma se volessi usare le note con App Store insieme, mi basta andare sulla sinistra, tenere premuto, trascinare le note nello spazio con l'App Store e a questo punto ho due app, una sopra l'altra, un po' come avveniva prima, ma in questo caso sono solo loro due. Se torno a Safari cosa succede? Avete visto, Safari è tornato in primo piano lasciandomi un gruppo di pannellini, quindi mi fa vedere che c'è sia App Store sia Note e se lo richiamo mi tornano tutte e due e da qua io potrò utilizzare un'App o l'altra, potrò anche andare a ridimensionare le finestre se sono troppo grandi o troppo piccole e sarà semplicissimo passare da un'App all'altra e questo è sicuramente un modo che per tutti quelli che avevano sempre mille App aperte e che quindi dovevano spostarsi da una all'altra sarà sicuramente comodissimo. Questo era veramente solo un assaggio velocissimo perché non voglio rubare troppo tempo al resto del video ma Stage Manager può fare molto di più come anche raggruppare più finestre della stessa App e funzionare su monitor esterni, ma ne parleremo poi perché intendo portare un video completamente dedicato a Stage Manager. A livello di impostazioni ce ne sono in realtà abbastanza poche se richiamo le impostazioni di sistema e mi muovo in scrivania e doc e scendo un pochino troverò proprio la voce Stage Manager da cui posso attivarlo o disattivarlo e soprattutto personalizzarlo andandogli a dire se mostrare le applicazioni recenti sulla sinistra quindi lasciarle sempre fisse lì o farle tornare quando mi muovo con il mouse e gli elementi della scrivania che secondo me va lasciato che mostra tutte le cose che abbiamo appoggiato proprio sulla scrivania questa in sostanza era Stage Manager lo sto provando ormai da quando è arrivata la prima beta e devo dire che seppur io sia abituato a usare gli spazi cioè il multi desktop presente da macOS da tantissimi anni è veramente una figata. E passo ora all'app foto una delle app più amate e più utilizzate in macOS che riceve importanti novità che abbiamo già visto su iOS 16 vado a richiamare innanzitutto foto e quindi mi si apre e le prime cose che voglio mostrarvi sono tre nuovi album inseriti da Apple il primo si chiama Duplicati questo era tesissimo da tantissimi di noi e ci mostra in sostanza tutte le foto duplicate che abbiamo nella nostra libreria cosa succede quando le troviamo? potremo andare a selezionare su ogni voce unisci elementi lui cosa farà? prenderà l'immagine migliore e le informazioni presenti magari mancanti dell'altra le unirà e resterà una foto unica andando a farci risparmiare veramente tantissimo spazio la cosa molto comoda è che se le selezioniamo tutte potremo dirgli unisci tutti i 39 elementi e quindi in un solo colpo faremo un'unione di tutte le nostre foto andando veramente a liberare spazio preziosissimo sul nostro Mac il secondo e terzo album che sono una novità attesissima anche questa sono l'album nascosti quindi le foto che abbiamo nascosto attraverso il Mac ma anche attraverso iPhone o iPad ovviamente sempre se utilizziamo le foto di iCloud e che sbloccheremo solamente o con la password di accesso al Mac o con la nostra impronta se il nostro Mac è dotato di Touch ID e la stessa cosa vale per l'album eliminati di recente che spesso conteneva immagini che volevamo proprio eliminare che quindi non doveva vedere nessuno anche in questo caso per vedere queste foto servirà o la password o l'impronta e questo è un segno che Apple ha ascoltato tutti i suoi utenti ma un'altra novità presente in foto è che debutta oggi anche su iOS 16.1 e su iPadOS 16 che poi in realtà è iPadOS 16.1 è la libreria di foto condivise di iCloud di cui vi ho già parlato proprio nel video dedicato ad iOS 16.1 ve la faccio in breve perché anche per questo porterò un video completamente dedicato è la possibilità di creare una libreria di foto iCloud condivisa con altre 5 persone a questo punto le persone, queste altre 5 persone potranno a loro volta aggiungere foto modificare le foto, ritagliare le foto, eliminare le foto quindi si popolerà una libreria condivisa con queste persone di norma queste persone devono essere persone a noi vicine come familiari, amici, compagni, compagne cosa succederà quando attiveremo questa libreria che diventerà comunque binaria quindi resterà la nostra libreria più questa libreria condivisa vedremo nelle foto che sono contenute in questa libreria condivisa queste due personcine all'interno del riquadro e ci dirà che questa foto è condivisa con le altre persone se io per esempio andrò a modificare questa foto andandogli magari a dare un pochino più di luce un pochino più di saturazione o magari la rendo bianco e nero faccio clic su fine questa foto verrà aggiornata anche per gli altri partecipanti al gruppo la cosa bellissima da iPhone se utilizzate un iPhone è che si potranno impostare delle regole automatiche per i quali se ci sarà quella persona presente anche nella libreria condivisa nella foto gli metterà automaticamente la foto nella libreria o altrimenti se quella persona sarà vicino a noi e iPhone la riconoscerà attraverso il Bluetooth farà la stessa cosa altrimenti potremo decidere di gestirla in maniera completamente automatica vi assicuro che inizialmente non avevo dato molto peso a questa cosa ma da un mese a questa parte cioè da quando la sto provando sulle beta di iOS 16.1 e di macOS Ventura è veramente fantastica quindi vi invito a provarla ultima novità delle foto e anche qui l'abbiamo già vista su iOS 16 se apro una foto se faccio un clic destro sulla stessa foto mi dice coppia soggetto siamo già stati abituati a farlo dai display dei nostri iPhone a questo punto cosa succede? richiamo per esempio una nota qua c'è una nota vuota e poi gli vado a dare in colla e comparirà la mia foto tagliata funziona veramente benissimo ed è comodo quando vogliamo fare dei ritagli e magari mettere degli sfondi diversi ma in macOS Ventura debuttano anche ben due app che però abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni sui display degli iPhone e degli iPad la prima è Meteo che richiama immediatamente al design appunto dei dispositivi portatili di Apple dove ci sarà veramente una lunghissima serie di informazioni la cosa è comoda è che se noi andiamo anche in un giorno qualsiasi e ci facciamo clic ci mostrerà le previsioni solo di quel giorno la stessa cosa vale per i riquadri ad esempio se vogliamo vedere l'orario del tramonto ci darà un grafico bellissimo è fatto veramente molto bene ma anche per esempio la mappa della qualità dell'aria nella zona dove ci troviamo ci starà a indicare tutte le informazioni importerà in maniera automatica grazie ad iCloud tutte le località che avevamo impostato quindi le ritroveremo già qui la seconda app fa anche un pochino ridere è l'app Orologio che debutta finalmente anche su Mac da qui potremmo muoverci in quattro pannelli ore locali che potremmo impostare con orari di altre città del mondo le sveglie quindi imposteremo le sveglie il cronometro e ovviamente il timer e quindi ci sono queste due app su Mac OS Ventura novità importante anche rilegata a FaceTime se per esempio faccio iniziare una chiamata dal mio iPhone e qui mi trovo in giro e sto parlando attraverso FaceTime se arrivo in casa e mi basta avvicinarmi al Mac potrò passare in maniera automatica facendo un semplice click la chiamata sul grande display del Mac e quindi sia la telecamera sia il microfono passerà proprio sul mio MacBook la stessa cosa vale al contrario se parte una chiamata dal mio Mac e la voglio passare sull'iPhone perché mi devo spostare sarà semplicissimo avvicinerò sempre l'iPhone e riprenderò la chiamata proprio da lì e ora vengo a quella che ritengo la novità più talentuosa che gli sviluppatori in Apple hanno saputo regalarci Mac OS Ventura ovvero Continuity Camera cos'è Continuity Camera? molto semplice è utilizzare un iPhone e le sue lenti ad altissima qualità al posto della webcam già integrata nei nostri Mac questo cosa consentirà? consentirà di avere e di dare una visione migliore durante chiamate in FaceTime o in altre app di video call ma anche di registrare video a mano libera che andranno a confluire direttamente sul nostro Mac ed è estremamente semplice configurarla e montarla vi faccio vedere come si fa per prima cosa ci tengo a mostrarvi questo adattatorino di Belkin che è arrivato sull'Apple Store Online ancora su Amazon non credo ci sia un costo all'incirca di 30 euro poi ve li lascio tutti i link qui sotto in descrizione che permette attraverso questo gancettino vedete di essere appoggiato sul Mac e dall'altra parte a MacSafe e quindi si attacca in maniera rapidissima ai nostri iPhone guardate avete visto come si è preso e come è resistente l'unica cosa da fare è cercare di allinearlo il meglio possibile così una volta montato la telecamera sarà completamente allineata al nostro volto direi che così ce l'ho fatta e poi prenderlo e appoggiarlo vicino alla webcam quindi facendolo stare il più dritto con il nostro viso ecco qua mi basta raddrizzare un pochino lo schermo così da farmi puntare direttamente in faccia e adesso vado ad aprire un'app che utilizza la telecamera quindi cosa faccio richiamo photobooth che usa proprio di norma la telecamerina integrata e vedete questa è l'immagine che produce dalla telecamerina integrata ma se io vado adesso nel menu di photobooth in fotocamera vedete che è comparso fotocamera di iphone 14 pro max la scelgo in maniera totalmente automatica avete sentito solo un din è passata già la telecamera e guardate che qualità incredibile di visione lo raddrizzo ancora un pochino così da essere completamente centrale ma la cosa fantastica è che se mi muovo nel centro di controllo è comparso un quadro che si chiama effetti video ci faccio un click e potrò innanzitutto scegliere di utilizzare l'inquadratura automatica quella che viene chiamata center stage e vedete come se io mi muovo iphone attraverso la grandissima qualità del suo obiettivo tenderà a seguirmi ma posso anche impostare la modalità ritratto cosa è la modalità ritratto avete visto come è completamente andato fuori fuoco lo sfondo se mi muovo mi segue e in più è fuori sfondo ultimo effetto che si può impostare è la luce set fotografico che va a risaltare il mio viso dando meno risalto allo sfondo guardate che immagine sta producendo direttamente l'iphone collegato al mio mac la cosa fantastica ancora più innovativa è che c'è un'altra funzionalità che si chiama panoramica scrivania e per farvela vedere sposto leggermente in più avanti il mac la vado ad attivare guardate si è aperta a questo punto un'altra finestra mi fa scegliere all'incirca lo spazio che voglio mostrare quindi inclino un pochino il display e faccio avvia panoramica scrivania avete visto come sono comparse le mie mani in parte la tastiera ma questo cosa serve serve se per esempio vi volessi mostrare proprio un prodotto questa è la scatolina del baking di cui vi parlavo poco fa ma guardate che qualità soprattutto se lo tengo appoggiato perché anche la distorsione viene quasi completamente annullata chiaramente se vado a inclinarlo un po' di più l'immagine sarà sempre migliorata e questo è veramente secondo me qualcosa di fantastico e che soprattutto funziona così facendo solo qualche click di qua e di là ma voglio continuare perché voglio farvi vedere che non è rilegato solamente a un ragionamento di posizionamento sopra il display perché se prendo l'iPhone che è ancora collegato a Photobooth potrò utilizzare le sue telecamerine per inquadrare le cose magari davanti a me o l'ambiente che ci circonda guardate un pochino chi c'è lì c'è sempre la mia cara Pepina e quindi da questo punto registrando questi video avrò utilizzato l'iPhone decisamente come una videocamera ma continuiamo perché ci sono ancora tante cose da vedere e ora vi parlo di mail che riceve novità importanti se per esempio volessi ritardare finalmente l'invio di un'email prendo un'email faccio rispondi in questo caso è un'email a Apple quindi non la invierò e ci metto una modifica ciao a questo punto cosa posso fare vedete che di fianco al tasto di invio c'è una freccettina verso il basso e potrò andargli a dire invia stasera alle 21 invia domani alle 8 o semplicemente invia più tardi da dove potrò scegliere data e orario e mail invierà la mail esattamente a quell'ora ma c'è anche la possibilità di annullare l'invio di un'email fino a 30 secondi qui attenzione perché non è che viene annullata e quindi cancellata la mail che abbiamo inviata ma ci dà un tempo fino a un massimo di 30 secondi in cui potremo cambiare idea e annullare l'invio le impostazioni per questa cosa le troviamo proprio nelle impostazioni di mail quindi le vado a prendere impostazioni qua mi muovo in scrittura dove vedete che sotto la voce invio c'è un ritardo per l'annullamento dell'invio di default è impostato su 10 secondi ma posso dirgli anche 20 secondi o 30 secondi io fossi in voi sceglierai 30 così da essere anche un pochino più sicuri cosa succederà che quindi se voi inviate un'email da quel momento avete 30 secondi per annullare l'invio e questa mail non verrà mai inviata novità simili a quelle appena viste in mail ci sono anche i messaggi e che seguono quelle già viste su iOS 16 quindi la possibilità di modificare un messaggio inviato fino a 15 minuti dal suo invio o l'annullamento del messaggio fino a 2 minuti dal suo invio vi faccio vedere provo a scrivere un messaggio ciao come stai mi scordo adesso volutamente il punto interrogativo lo voglio modificare come faccio vado sopra quel messaggio ci faccio un clic destro e clicco su modifica e aggiungo la parte mancante in questo caso il punto interrogativo e do invio fate bene attenzione perché sia voi ma anche chi l'ha ricevuto da questo pulsantino modificato facendoci clic farà vedere tutte le modifiche che abbiamo eseguito la stessa cosa vale per l'annullamento qui in realtà ci sono appunto come vi dicevo poco fa solo due minuti faccio clic destro e vado a selezionare annulla invio viene eliminato ma resta comunque una voce sia noi che la persona che l'ha ricevuta che abbiamo annullato un messaggio e raggiunge in questo senso messaggi cose già viste nelle altre app di messaggistica novità molto interessante anche in mappe dove finalmente potremo andare a scegliere una destinazione per tappe nell'esempio che vi faccio vedere a schermo vedete che ho impostato Parma per poi passare da Brescia per poi passare da Salò per poi passare a Garniano questa cosa c'è già anche su iOS 16 e su iPad OS 16 ma sui Mac la potremo come si poteva fare già da tempo impostarle poi spostarla direttamente sui nostri dispositivi mobili quindi avremo modo di fare la pianificazione e farcela ritrovare direttamente pronti per il viaggio quelle che vi ho fatto vedere erano solamente alcune delle novità presenti in Mac OS Ventura quelle che io definisco le novità principali ma sappiate che ce ne sono centinaia sparse qua e là in tutto il sistema operativo ci sono novità in Safari ci sono novità nella rubrica dove anche lì avremo i duplicati dei contatti ci sono novità in Note insomma ce ne sono tantissime magari scrivetemelo qui sotto nei commenti se le volete vedere ditemelo e porterò un video con anche le novità minori quello che mi interessa di più sapere da voi è cosa ne pensate di Mac OS Ventura cosa ne pensate del mio video se lo installerete o aspetterete qualche giorno insomma vi aspetto i numerosissimi qui sotto nei commenti quando passate da lì l'unica cosa che vi chiedo come sempre è quella per favore di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale prima di salutarvi ci tengo però a invitarvi ancora una volta a vedere l'altro mio nuovissimo video in cui vi mostro tutte le novità appena 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 rilasciate da Apple e presenti in iOS 16.1 noi ci vediamo presto qui sul canale per tantissimi nuovi video un grande saluto da Francesco ciao 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 ciao